Con un grandissimo disagio perché praticamente è tutto a carico dei commercianti, non c'è nessun vantaggio per noi. I lavori stanno procedendo un po' a rilento. In questo momento in confronto a 20 giorni fa sono abbastanza veloci, però 20 giorni fa, è stato quasi tutto il mese di gennaio, ci hanno chiuso completamente dentro. Quando vi hanno detto che avrebbero finito i lavori? Mai ricevuto nessuna notizia da nessuno. Nessuno ha comunicato, hanno fatto i lavori così? Siamo presentati la mattina e hanno iniziato i lavori, prima una settimana, poi 12 giorni, poi 3 settimane, il primo lotto di lavori. E da adesso ci abbiamo trovato l'una di mattina qua. E quindi tutta a carica della nostra calo delle vendite, problemi di sporcizia perché entra polvere nei negozi in una continuazione. Qui non solo calo delle vendite, anche danni? Sì, sì, e nessuno ha detto che bisogna avere solo un po' di pazienza. Questa è la risposta. Come vi chiamate voi? Io, Galano Fabrizio. Allora, grazie per la testimonianza, ma sono tutti i commercianti qui che si stanno lamentando. Speriamo che facciano presto questi lavori perché oltre a creare questo disagio commercianti, da Sant'Agnello a Sorrento c'è quasi un'ora di traffico.